Questa è la testa di San Bernolfo, un santo locale venerato tra Morozzo, la Valle Stura e Mondovì. Ha una storia importante perché il committente è un committente borghese, prima abbiamo visto Ludovico D'Acaia, quindi un committente principesco di corte, è un Guglielmo Badino che era un mercante di bestiame, di pellami, di cuoi e che gravitava tra il Cunese, il Delfinato, scavallando dal Colle della Maddalena e la Riviera Ligure. È un personaggio che quindi nel suo testamento ricorda di aver lasciato delle lire per realizzare questa testa e anche degli affreschi nella cappella in cattedrale a Mondovì dove voleva essere sepolto. Anch'esso è in argento con le dorature per sopracciglia, barba e capelli.